Teatro Dialettale e Cinema Sotto le Stelle alzano il sipario sulla ricca estate di eventi dell'Arena Bicici di Fano per un palinsestro magistralmente apparecchiato dalla cooperativa Tre Ponti. Si parte venerdì 8 luglio alle 21.30 con il primo di otto appuntamenti dedicati al Teatro Dialettale e si parte con una delle maggiori depositare dell'arte in questione, ovvero Franca Mercantini con la Cartomanta Patrucchiona per la regia di Stefano Poderi della Compagnia Teatrale Il Faro. La Cartomanta Patrucchiona, commedia di? Di Franca Mercantini, la regia mi sono cimentato io per la prima volta nella regia e abbiamo il solito cast di bravissimi attori che da anni costituiscono la compagnia. È una commedia divertente come tutte le commedie scritte da Franca Mercantini, questa tra l'altro è una vecchia commedia che è stata aggiornata, attualizzata, ma comunque è sempre molto divertente, è una commedia brillante, veloce dove i personaggi si alternano in situazioni veramente comiche. Lunedì 11 luglio torna invece il cinema sotto le stelle con 34 film e il primo rigorosamente a sorpresa. È il terzo anno che organizziamo la rassegna cinematografica anche in collaborazione con il gruppo Giometti, il nostro pay off è sempre stato film visti, mai visti, da rivedere, quindi c'è una selezione trasversale di cinema d'autore, di cinema un po' più mainstream, un po' più commerciale, ma noi siamo contenti insomma di averla proposta. Sono 34 serate, dall'11 luglio con la serata come sempre, direi perché ormai questo è il terzo anno ad ingresso gratuito per tutti, il film è una sorpresa, è per tutti e si conclude il 2 settembre con il film a 2 euro, anche quello non è svelato. Gli altri sono tutti nel programma che potete visitare nella pagina social dell'Arena, BCC o in quella del Masetti. Grazie.